PORGO I MIEI SALUTI Salute, Saidi Potrei vedere la merce Ecco il mio assortimento Ogni protezione può essere migliorata Molto bene Con questo è tutto A di Parla, sei stato tu a segnalare la mia cassa di foglie Lo so Quali bevande mi farai assaggiare oggi, Kong? Nessuna, finché Luca non mi ridarà la cassa Ma se siete qui per comprare del tè Ho molti consigli Kong! Sono io, Basim Chi sareste? Chi? Basim Non sono un idiota Tutti dicono di essere qualcuno che conosco Rispondete Quale tè piaceva al mio Basim? Allo zenzero, con della curcuma Sbagliato! Basim odia il tè Basim, guardati fringuellino Tutto vestito bene Vieni, vieni Seguimi al mio banco Lontano da questo furfante Allora fringuellino, che cosa mi racconti, eh? Sono passati anni Ho fatto questo e quello E ho dovuto lasciare Baghdad per un po' Ah, voi giovani E tu? Cosa mi dici, Kong? Che hai fatto in tutti questi anni? Quello che so fare meglio, guadagnare Ma anche se un po' meno di recente Le guardie sono sempre allerta E quel mercante greco si è preso la briga di segnalarmi ad ogni occasione Me lo sento fin nelle ossa che vorrebbe ridurmi alla fame O, peggio, a chiudere la mia attività Ah, ma ora ci sei tu qui, fringuellino Ricordi come eravamo affiatati noi due Perché non mi aiuti in nome dei vecchi tempi? Eh, in nome dei vecchi tempi Ma sappi che poi ti dovrò parlare Anch'io ho bisogno di qualcosa Ma certo Dopo che avrai recuperato la mia cassa di bellissime foglie Deve essere laggiù dove ci sono le guardie Ora va Bene Ma anch'io dovrò chiederti qualcosa poi Sì, sì, ma certo Grazie Buon appetito! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 C'è stato? Ma chi è? facerai per sempre non fuggirei ecco dov'essere la cassa di foglie di tè di kong sembra che la cassa sia intatta kong ne sarà felice oh Oh, le mie foglie! Sia lode a te, fringuellino! Dove devo metterla? Vieni, vieni, mettila qui! Basim non delude mai! Molte grazie, fringuellino! Da dove arrivano? Dall'India? No, arrivano dritte dalla Cina! Dali, la mia città, produce le foglie migliori! Ne importo altre dall'India, persino dalla Persia! Kong alla conquista del mondo! Prima di Karh, poi del mondo! Andrò a vendere la mia merce alla grande asta! Ne hai sentito parlare? Il Dai Rat al Mal! Sì, cerco il modo di entrare! Perché? Ti sei dato agli affari anche tu, fringuellino! Perché non me ne parli? Abbiamo sempre lavorato bene insieme! È il tipo di affari che può farti finire in grossi guai! Credi di potermi aiutare a entrare all'asta? Ah, il solito Basim, sempre pieno di segreti! Ma fa' attenzione, d'accordo? Karh è un distretto ben più pericoloso adesso! L'asta è molto esclusiva, non è facile entrare! Io posso aiutarti, fringuellino! Ma prima ho una richiesta! Guarda, tutto bloccato! Le guardie fermano tutto ciò che arriva via strada e via fiume! È come se avessero ricevuto ordini da un superiore! Ormai non riesco più neanche a corromperli! Credo che stiano cercando qualcosa! Un oggetto? Non ne ho la più pallida idea! Ma mi rovinano gli affari, questo è certo! Ora riesco a vendere solo acqua profumata! Ho sentito che portano tutta la merce nel deposito protetto del Mastro di Porto, a est di qui! Fammi indovinare! Vuoi che io ti aiuti a recuperare la merce in cambio del mio ingresso all'asta! Intorno al deposito vedrai dei vissilli e alcuni argani! La mia merce in cambio del tuo ingresso! Che ne dici, affare fatto? Affare fatto! La mia merce in cambio del tuo ingresso all'interno del mio 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 ingresso all'inter